Come funziona uno scambiatore di calore a piastre? Lo scambiatore di calore a piastre è uno scambiatore molto particolare, ormai presente sul mercato da diversi anni, è uno scambiatore formato da, come dice il nome stesso, da diverse piastre dove il fluido si alterna, fluido caldo e fluido freddo si alternano una piastra sì e una piastra no, ovvero tra una coppia di piastre passa al fluido caldo, tra la coppia successiva a quello freddo, quello caldo, quindi quello freddo e così via fino a riempire tutto il pacco piastre. Solitamente i fluidi si muovono in controcorrente, quindi in perfetta controcorrente ed è uno scambiatore che ha dei coefficienti di scambio, se rapportati a quelli dei classici scambiatore a fascio tubiero, molto più elevati, quindi con un'efficienza termica molto più elevata. Questo è dovuto al fatto che i fluidi all'interno dello scambiatore si muovono di moto turbolento anche quando le velocità dei fluidi stessi sono molto basse. Guardate questo video che reputo molto interessante. a fare un'interno di questo video. come avete visto i fluidi si alternano tra le coppie di piastre come dicevo e si muovono in controcorrente la sezione idraulica dei canali vediamo un po se riesco a farvelo eccolo eccolo qua perfetto come vedete i canali sono molto stretti diciamo che il diametro idraulico di passaggio è attorno ai tre millimetri due e mezzo 32 dipende un po dalla tipologia di scambiatore dal modello di scambiatore ma mediamente le sezioni sono queste inoltre per proprio per come disegnare la piastra vediamo se ne ho qua una eccola eccola qua per come disegnare la piastra vedete diciamo che questi canali le piastre vengono alternate con un disegno con questa spina di pesce che si accoppia in modo ruotato di 180 gradi questo crea una serie di canali come dicevo con un diametro di passaggio molto piccolo attorno ai due millimetri e mezzo tre millimetri questa alternanza e la corrugazione delle piastre crea un passaggio che non è mai lineare ma costringe il fluido a un moto che viene continuamente spezzato e quindi questo è il motivo per cui anche con basse velocità del fluido si ha un moto turbolento avendo moto turbolento anche a basse velocità i coefficienti di scambio sono molto elevati questo consente di avere delle efficienze termiche molto più elevate rispetto a scambiatori di altra tipologia come gli scambiatori a fascio tubiero ad esempio come gli scambiatori a serpentino e consente di avere delle dimensioni di ingombro molto compatte ma soprattutto consente allo scambiatore a piastre l'incrocio delle temperature quindi di ottenere una temperatura del fluido raffreddato rispetto al fluido riscaldante o viceversa del fluido caldo rispetto al fluido freddo molto vicino tra di loro che addirittura si possono incrociare quindi possiamo diciamo ottenere un fluido raffreddato fino a circa due gradi leggermente più caldo quindi due gradi in più rispetto alla temperatura del fluido freddo cosa che con scambiatori di altro tipo ad esempio con scambiatori a fascio tubiero è praticamente impossibile o se è possibile farlo ha dei costi e delle dimensioni veramente inaccettabili interessante vero questo argomento credo che lo approfondirò ulteriormente